Le recente notizie sulla guerra in Ucraina, anziché portare sollievo e speranza, attestano invece nuove atrocità, come il massacro di Boca. Crudeltà sempre più orrende, compiute anche contro civili, donne e bambini inermi. Sono vittime il cui sangue innocente grida fino al cielo e implora. Si metta fine a questa guerra, si facciano tacere le armi, si smetta di seminare morte e distruzione. Preghiamo insieme su questo. E ieri, proprio da Boca, mi hanno portato questa bandiera. Grazie. Grazie. Questa bandiera viene dalla guerra, proprio da quella città martoriata a Boca. E anche ci sono qui alcuni bambini ucraini che ci accompagnano. Salutiamoli e preghiamo insieme con loro. Ecco, vieni, vieni qui. Guardando la gente, vieni qui di questa parte. Vieni qui di questa parte, guardando la gente. Questi bambini sono dovuti fuggire e arrivare a una terra sana. Questo è uno dei frutti della guerra. Non dimentichiamoli e non dimentichiamo il popolo ucraino. Grazie. 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 Grazie.